Campus Party è un caos organizzato in cui migliaia di ragazzi e ragazze con gli occhi che brillano discutono fra loro o partecipano ai dibatti più variegati. Mi piace vedere negli occhi di questi ragazzi e queste ragazze il sogno che hanno, mi piace immaginare il loro futuro, è un posto in cui io mi trovo assolutamente a mio agio.